E' stato individuato in poche ore e denunciato dall'autorità giudiziaria un cittadino extra comunitario del Gambia per richiedente protezione internazionale che qualche giorno fa per futili motivi aveva brandito un pezzo di legno roteandolo in una via del centro storico e creando una situazione di pericolo per i presenti. Gli agenti del commissariato di Modica, raccogliendo le opportune informazioni in merito alle fattezze dell'autore, lo hanno individuato presso la sua abitazione, identificato per un 19enne del Gambia mediante i successivi accertamenti fotodattiloscopici. Grazie alle preziosi testimonianze di taluni passanti sono state altresì acclarate le condotte violente del giovane, infatti lo stesso, all'improvviso e senza alcun motivo, dava in escandescenza la presenza di più persone, per lo più turisti, sprolocando e poi dileguandosi tra le viuzze del centro storico. Fra l'altro la condotta esagitata del giovane determinava l'interruzione momentanea di una visita turistica itinerante, pertanto questi veniva denunciati anche per interruzione di pubblico servizio. La rapida ed efficace attività investigativa, frutto di un'ampia conoscenza del territorio e della costante presenza sullo stesso, consentiva ai poliziotti di individuare subito il responsabile. Oltre ai risvolti di carattere penale, la posizione del giovane adesso al vaglio degli uffici provinciali, per l'adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi, il deferimento di cui sopra si inserisce nei consueti controlli della movida modicana, espletati sia dalle volanti che dal personale della squadra giudiziaria e del commissariato, per garantire il sereno svolgimento delle attività ricreative, turistiche e commerciali, con particolare riferimento al centro storico, nel corso dei quali, nell'ultima settimana, sono stati effettuati vari sequesti di stupefacenti anche a carico di ignoti, mentre cinque assuntori sono stati segnalati alla prefettura.